Qui a Civitella parte un percorso possibile per arrivare a un marchio IGP per quanto riguarda l'arrosticino d'Abruzzo. Stiamo cercando con gli amici dell'associazione Anno Mariano 1954 di avviare un percorso per arrivare ad un marchio di qualità europeo, un marchio IGP, quindi identità geografica protetta, perché crediamo che sia l'unico modo per tutelare questo prodotto, per promuovere una ricaduta economica sul territorio, evitando che l'arrosticino venga fagocitato da realtà extra-regionali. L'obiettivo è quello di dare strumenti di identificazione di questo prodotto, certificato nel suo legame con il territorio, su basi di qualità che premino la buona fede dei consumatori e che diano alle imprese la possibilità di promuoversi meglio e di più, non solo sul territorio italiano, ma anche in un contesto internazionale come già molte imprese fanno vendendo all'estero i propri prodotti. Quindi crediamo che l'IGP sia una occasione ed una necessità irrinunciabile. Crediamo fortemente in questo prodotto che è il prodotto principe non solo di Civitella ma di tutto l'intero comprensorio e speriamo appunto che insieme ai produttori e a chi comunque lavora in questo campo si riesce a capire l'importanza di questa iniziativa. Forse in questo periodo di difficoltà per quest'area bisogna remare tutti dalla stessa parte? Certamente, credo che questa sia la prima condizione affinché si possa riuscire a promuovere qualcosa che di suo giova fortissimo, come l'arrosticino. Stare insieme farà sicuramente la differenza. Stare insieme farà sicuramente la differenza.